Salve amici del Centro Meto Italiano. Come da ultimo decreto ministeriale per limitare ulteriormente gli spostamenti, questi video saranno realizzati senza la presenza del meteorologo in studio. Ondata fredda in azione sull'Italia con fiocchi attesi fin verso le pianure. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per mercoledì 25 marzo. Al mattino molte nubi sulle regioni adriatico centrosetenzionali con neve fino a 50-100 metri di quota, maltempo diffuso su isole maggiori e bassa Calabria. Al pomeriggio nevicate sparse su Alpi e Appennino oltre i 200-400 metri, piogge e acquazzoni lungo i settori costieri adriatici, fenomeni a tratti molto intensi sulla Sicilia. In serata e nottata si rinnovano condizioni di generale maltempo da nord a sud, in estensione anche alle regioni tirreniche con nevicate fino a quote prossime alla pianura e forti precipitazioni sui settori ionici meridionali. Temperature minime stazionarie o lieve rialzo, massime in calo al nord. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.